misura, parola saggia, c'è una misura per tutto e questo ci dice che è una parola democratica tutti possono conoscerla, dovremmo imparare a dare una misura alla nostra vita, ovvero non chiedere mai più di quello che si è disposti a dare, come quantità non qualità la quantità è uguale per tutti, la qualità no quindi nella relazione con il mondo dovremmo sempre valutare la quantità la qualità è individuale e quindi è nella relazione con se stessi che la qualità è importante grazie a tutti